Lo ha sospeso perché, attenzione, gli strumenti contro l'evasione fiscale servono, ma questo è vecchio, non funziona. Usiamo l'incrocio delle banche dati, usiamo sistemi nuovi come ad esempio il catchback, cioè che tu usi la moneta elettronica. Però mi faccio dire una cosa, Parenzo, perché il tentativo di Romero di normalizzare quello che è successo a me lascia basita. Noi abbiamo una Presidente del Consiglio, di Fratelli d'Italia, che oggi smentisce un membro di governo di Fratelli d'Italia su un qualcosa che è stato pubblicato. Io mi sono chiesta, ma voglio dire, perché c'è tutto questo litigio? Perché c'è tutto questo andare uno contro l'altro? E sa perché? Perché se lì ci pensa, gli ultimi 18 mesi hanno promesso una cosa e hanno fatto il contrario. Hanno promesso no redditometro e arriva a redditometro. Hanno promesso no alle tasse, hanno alzato le tasse su tutto, IVA sui pannolini, sul latte in polvere, solo le banche non hanno tassato. Hanno promesso la benzina, ricordiamo i video a proposito di Meloni sulla benzina e le cise, e ha tolto lo sconto. Allora, è chiaro che se tu prometti una cosa e poi fai il contrario, dei litigi ci sono, però sa qual è il punto. E che a rimetterci sono i cittadini italiani, questo non è accettabile.